È tempo di vivere la nuova stagione di Canale 5. Tutta da trascorrere insieme. Per tornare ad emozionarci. Spieghiamo sulla coppa, dai! È tempo di starvi vicino. Con tanto affetto. Di esultare. E di sognare. Ma ci vuole visione, visione! Con nuove storie. Avete visto che meraviglia? E avventure. È tempo di divertirsi insieme. Giochiamo! Con nuovi amici. E con gli amici di sempre. È già qua! È il momento di vivere insieme la nuova stagione di Canale 5.